Il tavolo tecnico ottenuto sia a Roma nei giorni scorsi ha dato esito positivo. Nel corso della riunione sono state approvate le integrazioni chieste alla regione delle due strutture ospedaliere di Campobasso. Entro fine anno sarà firmato un protocollo d'intesa con la Fondazione Giovanni Paolo II per l'accorpamento con il Cardarelli. Energie rinnovabili tra sole e vento, il Molise è ricco di impianti, talvolta anche molto criticati. Per quanto riguarda il fotovoltaico, secondo uno studio della Confartigianato, il Molise si classifica tra le prime sette regioni d'Italia. Economia in crescita in Molise, commercio, costruzioni e ristrutturazioni, i settori principali preferiti dalle imprese Under 35. Un saluto a tutti e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. In apertura, come avete sentito anche dai titoli, parliamo di sanità. Entro la fine dell'anno sarà firmato un protocollo d'intesa con la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso per l'accorpamento con il Cardarelli. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Il tavolo tecnico tenutosi a Roma nei giorni scorsi ha dato esito positivo. Nel corso della riunione sono state approvate le integrazioni chieste alla regione delle due strutture ospedaliere di Campobasso. Entro fine anno sarà firmato un protocollo d'intesa con la Fondazione Giovanni Paolo II per l'accorpamento con il Cardarelli. A comunicarlo il Presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura, che ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione ottenuta. Superata ora questa prima fase, bisognerà sistemare due aspetti. L'accesso alla liquidità straordinaria dei 19 milioni, questione che una delega al Ministero dell'Economia, e la correzione di due refusi nel progetto di integrazione. Convento a così Frattura, determinato ad arrivare a un ospedale unico a Campobasso, che preveda la coabitazione delle due realtà. I cittadini devono avere un ospedale unico e non due strutture, che paradossalmente rischiano di entrare in concorrenza tra di loro. Adesso si tratterà di avviare la negoziazione con la Fondazione, perché dovremo predisporre il protocollo d'intesa. Ragioneremo con loro per costruirlo. Proseguiamo con la cronaca ricoveratore al Cardarelli di Campobasso, un giovane di 23 anni di cerce maggiore, per essere stato colpito e ferito da un colpo partito involontariamente da fucile di uno dei compagni con i quali era andato a caccia nelle campagne di Mirabello. Ora i carabinieri stanno eseguendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. E cambiamo argomento e parliamo di energie rinnovabili. Tra sole e vento in Molise è ricco di impianti, da volte anche molto criticati. Per quanto riguarda il fotovoltaico, secondo uno studio della Confartigianato, in Molise si classifica tra le prime sette regioni d'Italia. Sentiamo il servizio. Il 2011 è stato l'anno del boom fotovoltaico. Più che di un rallentamento dei tassi di crescita, oggi possiamo parlare di una frenata. Rispetto ai primi anni, in cui la rincorsa all'incentivo è servita da volano per il fotovoltaico, si assiste ad una drastica diminuzione del numero di investimenti. Nonostante ciò, i dati sono ancora in crescita, segno che il settore, cheppure sta attraversando una ristrutturazione radicale, è ancora in fase espansiva. Il callo che si è tuttavia avvertito è il risultato di una serie di fattori negativi che hanno generato una forte contrazione del mercato. Tra le cause scatenanti, sicuramente la crisi economica. Nel 2013 sono stati installati in Italia 78.034 nuovi impianti fotovoltaici. Il Molise è tra le prime sette regioni d'Italia con il numero più alto di fotovoltaico da quanto si attesta da uno studio della Confartigianato. Dal sole al vento, per quanto riguarda le energie rinnovabili, infatti in Molise è molto presente anche gli impianti eolici, verso i quali è nata una critica relativa al deturpamento del paesaggio ambientale. Da ultima ha smosso le coscienze ed è rimbalzata le cronache la possibile installazione di una pala eolica nel cuore del Parco delle Morge Cenozoiche del Molise, luogo di ricchezza storica e volano turistico per la regione. Torniamo a parlare di scuole perché il Consiglio Comunale di Campobasso nella seduta del 3 novembre scorso ha approvato un ordine del giorno per la tutela dei circa 600 bambini che frequentano la scuola Don Milani. Con questo atto il Sindaco di Campobasso e tutti i consiglieri presenti nei confronti dei 1.200 genitori di tutta la cittadinanza hanno preso impegni precisi. Primo tra tutti quello di far cessare al massimo entro metà gennaio i doppi turni per i bambini che oggi sono costretti ad effettuare le lezioni di pomeriggio presso la scuola Petrone. Oltre a questo si sono impegnati affinché l'ufficio tecnico comunale fornisca subito la documentazione attestante l'idoneità sismica della scuola Petrone. Entro gennaio venga pubblicato sul sito del Comune la carta d'identità di tutti gli edifici scolastici comunali, venga creata una task force regionale per risolvere l'annosa problematica dell'edilizia scolastica e venga infine creata una scuola a cuscinetto per ospitare gli studenti in situazioni emergenziali. Cambiamo nuovamente argomento, sono solo 4 su 5 molisani che avendo la possibilità scelgono di rimanere in Italia per lavorare e mettere su famiglia. Dati allarmanti quelli prospettati nella statistica della Fondazione Migrantes 2016. Sentiamo i dettagli nel servizio. Che la nostra regione fosse un progressivo spopolamento è ormai noto ed evidente a tutti, per questo non sorprende affatto il dato della Fondazione Migrantes nel rapporto italiano nel mondo 2016. Sono solo 4 su 5 molisani che hanno la possibilità e scelgono di rimanere in Italia per lavorare e mettere su famiglia. Un dato allarmante che, seppur noto, offre un'ulteriore occasione per riflettere sul futuro del nostro territorio e dei nostri corregionali. Il quadro socio-economico nazionale di questi anni di crisi è evidentemente uno dei peggiori nell'area europea. A pagarne il prezzo più salato sono da sempre le regioni del sud Italia, in particolare quelle più piccole e meno influenti sulle strategie di sviluppo nazionali e comunitari che si profilano. Detto altrimenti, a fronte di 11 individui che scelgono di rimanere in Italia, una sola prende la via del restero. Una situazione preoccupante, ma di gran lunga migliore di quella del Molise. La vera novità, però, è che Molise non si fa più ritorno se non in vacanza, con il rischio di trovare il proprio paese un giorno svuotato. È ancora una novità che tra i primi 50 comuni d'Italia con meno di 10.000 abitanti, i cui cittadini hanno spostato la propria residenza all'estero, vi sia il Molise. Anzi, 7 sono molisani. Date alla mano è quindi una novità per tutta una serie di paesi in cui la popolazione che resta è di gran lunga inferiore a quella emigrata. Evidentemente, le decisioni politiche che determinano questo stato di cose non sono delle migliori, soprattutto quelle dettate dall'Unione Europea e fatte proprio dall'agenda politica nazionale, prima che dalla regione, la provincia o i comuni. Questa gerarchia di livelli decisionali, però, non deve spaventare perché la storia insegna che il cambiamento, quello vero, tangibile e radicale, nasce dalla capacità di mettersi in gioco, di autodeterminarsi e di pensare e costruire insieme un esistente migliore. E l'Union Camere Molise informa che l'azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, promuove la partecipazione di aziende del comparto enogastronomico a Gustus Expo dei Sapori Mediterranei, che si terrà la mostra ad oltremare di Napoli dal 20 al 22 novembre 2016. Gustus, giunto alla terza edizione, è il primo salone professionale dell'agroalimentare enogastronomia e nutrizione del centro-sud d'Italia, indispensabile per ampliare la distribuzione, la visibilità e le relazioni commerciali nel meridione. Saranno ammesse fino ad un massimo di 20 aziende agroalimentari alle quali sarà garantito uno spazio espositivo nell'ambito di una collettiva impresa. Potranno prendere parte alla fiera anche le aziende molisane interessate. Commercio, costruzioni e ristrutturazioni, i settori principali preferiti dalle imprese under 35, che come abbiamo già visto sono in forte aumento. Sentiamo il servizio realizzato. Economia in crescita in Molise, lo conferma la fotografia di Union Info Camere nell'indagine Movimprese, che segnala un forte contributo da parte del sud da chi è nato dopo il 1981. In Basilicata, Calabria e Molise, le iscrizioni di nuove attività da parte degli under 35 superano il 38% delle iscrizioni totali dei primi nove mesi dell'anno. In Campania rappresentano il 37,5%, in Sicilia il 36,8% e in Sardegna il 33,6%. In Italia le imprese giovanili sono circa 600.000, il 10% del totale, e si concentrano in gran parte nei settori tradizionali. I nuovi capitani d'impresa sembrano invece puntare parecchio su settori ad alto valore aggiunto, come spiega anche la ricerca. Fra i settori tradizionali si segnalano il commercio, con il 29% delle imprese di under 35 registrati a fine settembre, le costruzioni con il 14% e le attività dei servizi di alloggio e ristorazione con il 10%. Fra quelli ad alto valore aggiunto spiccano le telecomunicazioni, in cui più della metà delle imprese fondate nei primi nove mesi del 2016 si deve ai giovani. Nei servizi finanziari, i neoimprenditori di meno di 35 anni sono quasi la metà del totale. Nelle attività imprenditoriali legate a cinema, video, programmi TV e registrazioni musicali, le iscrizioni di imprese giovanili superano il 40% del totale. E dopo il successo avuto in estate, da domani al Cus Monise torna il campus per bambini. A seguito anche della chiusura della scuola Don Milani con i conseguenti turni pomeridiani, il centro universitario sportivo vuole offrire alle famiglie e ai bambini una nuova importante opportunità. Da lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30 al Pala Unimol, i bambini avranno infatti la possibilità di svolgere attività ludico-motoria, sotto lo sguardo di tecnici preparati che permetteranno ai bambini di trascorrere una mattinata all'insegna del divertimento. Un'iniziativa lodevole che conferma la grande qualità del lavoro che il Cus sta svolgendo da tempo al fianco dei cittadini e degli sportivi. Cambiamo argomento perché alvia la 25esima edizione del Merano Wine Festival, uno degli eventi più importanti dedicati al mondo del vino e dell'enogastronomia, in programma dal 4 all'8 novembre nella città Alto a Tesina. Per il secondo anno consecutivo il Molise è presente alla manifestazione con quattro aziende vitiminicole, Cataboti, Tenimenti Grieco, Valerio e la Cantina di Remo, che hanno colto lì l'opportunità messa a disposizione dall'assessorato alle politiche agricole della regione Molise, in collaborazione con Union Camere Molise. Nella Gourmet Arena, spazio riservato a professionisti e stampa del settore food, le cantine molisane presenteranno ad esperti appassionati le proprie doc ed edificazioni geografica tipica raccontando il nostro territorio. Più di 100 le aziende italiane di alta gastronomia, oltre 500 le etichette nazionali e internazionali selezionate tra quelle inviate in degustazione dalle commissioni di assaggio dei Wine Hunter. E adesso torniamo a parlarvi della storia di Felice, voi potete aiutarci a realizzare il lieto fine, sentiamola. Lui è Felice Guastamacchia e insieme alla sua gemellina bianca è nato lo scorso 10 agosto a Terlizzi, un piccolo paesino della Puglia. Una gioia immensa per mamma Valeria e papà Michele, fino a quando al piccolo è stata diagnosticata un'epidermolisi bollosa distrofica, malattia genetica rara che colpisce soprattutto cute e mucose e può portare alla morte. Chi ne soffre a causa dell'estrema fragilità della pelle deve combattere ogni giorno con lesioni bollose che possono comparire anche in seguito a piccoli traumi, ulcere che guariscono con difficoltà e altre complicazioni spesso invalidanti. A Felice è così piccolo, ma che sa già bene cosa significa la parola dolore, vengono riservate attenzioni secondo per secondo. Mamma e papà infatti devono cambiare continuamente le bende sugli arti del bambino per scongiurare qualsiasi tipo di infezione. Ed è così che papà Michele, Macellaio e mamma Valeria Casalinga trascorrono le loro giornate nella speranza di poter presto raggiungere gli Stati Uniti d'America, dove precisamente nel Minnesota sarebbe possibile effettuare una cura basata sulle cellule staminali. Tutta la comunità di Terlizzi si è stretta così attorno alla famiglia Guastamacchia, organizzando manifestazioni benefiche per ottenere quel milione e mezzo che serve per curare, almeno inizialmente, Felice. Non solo la Puglia, ma anche la Campania e il Molise hanno adottato la triste storia di Felice, organizzando punti di raccolta fondi. Nella provincia di Campobasso, ben 15 quelli presenti. Anche l'amministrazione di Palazzo San Giorgio e l'Associazione Campobasso Nord si sono rese disponibili e solidali. E in cima alla Morgia Pietra Martino, per dire no all'eloico e nel territorio del parco. Oggi, domenica 6 novembre, è un programma per l'intera giornata dedicata alla scoperta delle bellezze di Pietra Martino, in cui si avrà la possibilità di raggiungere a piedi la Morgia, salire sulla cima attraverso un breve e divertente percorso ed ascoltarne la storia geologica e antropica. Si parlerà anche della minaccia eolico selvaggio, la probabilità che rigeranno un macroaereo generatore in territorio di Bagnoli del Trinio, nel cuore del parco delle Morgia. Nella seconda parte della giornata, prevista l'arrampicata sportiva proprio ai piedi della Pietra, in totale sicurezza. L'incontro è aperto a tutti gli sportivi che già praticano l'arrampicata e con la loro presenza vorranno sostenere l'iniziativa e la diffusione di una giusta cultura di uso e fruizione del territorio, mediante attività ecosostenibili. E con questo il nostro appuntamento finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmi all'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per lunedì 7 novembre. Alta pressione in edibolimento per un fronte freddo che porterà maggiore variabilità e qualche pioggia in gran parte del Molise. Il tutto accompagnato da un contenuto calo di temperature. Ma vediamone nel dettaglio. Campobasso minima 9, massima 13. Isernia 10, 16. Termoli 15, 18. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Acconseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Grazie a tutti.